Si schianta con l'auto contro un albero a gizzeria, muore 39enne. Incidente mortale a gizzeria, una Kia Sportage per causa in corso di accertamento ha perso il controllo, finendo contro un grosso albero fuori dalla sede stradale. A bordo il solo conducente GS di 39 anni, deceduto sul colpo. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, di staccamento di Lamezia Terme, che è impegnata dalle ore 6.30 circa in via Scapillo, nel comune di Gizzeria. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura, in attesa delle autorizzazioni del magistrato di turno e del medico legale per estrarre la salma dalle lamiere. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono al momento in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.